Con Mattia Zambernardi, il porterone del Barlo Stollo, non ci hanno bastate le sue parate per vincere questo torneo di Roccalbenia, ma insomma a lungo il portiere ha tenuto a galla la tua squadra. Sì, è stata una bella partita, siamo stati dentro fino all'ultimo, però poi hanno vinto più forti probabilmente. Insomma nel secondo tempo alla fine è venuta fuori la maggiore esperienza, forse anche la maggiore fisicità della squadra avversaria, ma insomma la tua squadra alla fine... Anche la maggiore corsa credo, noi eravamo un po' fermi sul campo, ci hanno chiuso qui dietro. Cos'è mancato nel secondo tempo, al di là un po' di qualche cambio, insomma un paio di giocatori un po' messi male fisicamente? Eh sì, soprattutto, poi c'è mancato anche qualcosa sotto porta, non abbiamo mai tirato praticamente il secondo tempo. Quindi da parte tua molto onesta dire che insomma alla fine ha vinto la squadra più forte, un bilancio sul torneo, com'è stato questo torneo di Roccalbenia? Stava un bel torneo, abbastanza combattuto, noi non ci aspettavamo assolutamente di arrivare in finale, però siamo divertiti. La sensazione è che il tuo sia soprattutto un gruppo di amici, insomma va benissimo se siete arrivati o se siete arrivati, insomma la vittoria sarebbe stata un troppo.